Con l'Anagni l'Avellino non passa mai. Così come all'andata, anche al ritorno i biancorossi fermano i lupi. Al Caslini di Colleferro termina 1-1, a Devena risponde Cardinali. Gli ospiti passano subito, è il tredicesimo minuto, Parisi si invola sulla trequarti e serve Tribuzzi. La sfera arriva a D'Adalte che serve Devena, l'attaccante non sbaglia, è il vantaggio Irpino. La risposta del cittadino Anagni arriva al ventiduesimo, Pralini sugli sviluppi di un angolo colpisce di testa, l'Avellino si salva. I patroni di casa crescono, al ventiseiesimo Ancinelli prova la botta dalla distanza, Visco vorre e spinge. L'Avellino però è sempre pericoloso, dopo la mezz'ora su calcio da fermo Gerbaudo per poco non trova il sette. Nella ripresa gli Irpini provano a chiudere il match, al settimo è pericoloso di testa da D'Adalte, la sfera finisce sul fondo. Un minuto più tardi, Devena servito da Parisi colpisce in pieno la traversa con un autentico bolide. Sul prosiego, l'Avellino segna ma in offside. Al diciassettesimo approvarci Sforzini con poca fortuna. L'Aragni si fa vivo intorno alla mezz'ora, il tiro cross di Flamini viene respinto da Viscovo. È questo il preludio al pari realizzato al trentatreesimo da Cardinali, che infila la sfera sotto le gambe di Viscovo ed insacca. È uno a uno. A questo punto, l'Avellino tenta il forcing per prendere tutta la posta in palio. Al quarantaseiesimo, San Campiano si esalta con un gran colpo di Reni, deviando la sfera in angolo. In pieno recupero, gli ospiti protestano per un presunto tocco sospetto in aria di Flamini. L'arbitro fa proseguire. Termina uno a uno. Lanagni stoppa ancora l'Avellino e continua il suo ottimo campionato.